Per me dare valore è dare il giusto risalto ad una persona, ad un'opera, ad un'attività, a un gesto che può essere fatto da una persona o da un'associazione, piuttosto che da un movimento. Per me dare valore è attribuire la giusta importanza a chi si può essere mosso in una certa direzione, può aver fatto del bene a qualcuno che ne ha bisogno.